non a caso la contrata prima e seconda classificata avevano già vinte l'edizione con il 4.35 la bottiglia di champagne la gippa usa l'assiativa spuglia Giro! Giro! E dai! Adesso, faccia! Adesso, faccia! Faccio, ognuno la fotografia so, ehi, passa prima! Adesso, adesso! Adesso, adesso! Adesso, faccia! Vecce, Giro! Vecce, girala! Gira, là! Io tolenoidia! Espi!